Un buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video sulla potatura della vite. In particolare in questo video vi voglio approfondire il concetto del taglio di ritorno che ne abbiamo parlato nella live di martedì e vi voglio appunto far vedere questa vite che è una vite di moscato bianco del 2014 e ha l'innesto qui nella testa troppo alto e voglio che stiano 10-20 cm sotto il primo filo in modo da legarne meglio. Infatti guardate che curva ha dovuto fare questo tralcio l'anno scorso per essere legato. Queste cose qui non mi piacciono, voglio vedere un capofrutto bello dritto allineato sul filo. Quindi ho lasciato questo germoglio qui che adesso è diventato un tralcio, non è tanto vigoroso purtroppo per la causa della siccità, non c'è altro da prendere perché questi due sono secchi, quindi vado intanto a liberare la pianta dalla legatura e poi come potete vedere qui c'è questo tralcio qui che parte dall'altezza giusta, vado a scegliermelo come capofrutto, lo prendo tutto, non è tanto lungo, ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemme, va più che bene però, e poi vado a tagliare non qui, quindi non raso ma lascio quanto più margine possibile, vado a tagliare qui dove c'è la testa, tolgo questo e tolgo questo, e quindi rimane così. Questo è un metodo per far soffrire meno le piante che si vogliono abbassare. Da qui sicuramente queste primavera, queste state partiranno parecchi germogli, ma io vado a pulire questo tronchetto qui, questo pezzo di legno qui che sono circa 15 centimetri, fino a quando non si sarà totalmente seccato, quando si sarà seccato, fra qualche anno, allora poi posso andarlo a tagliare. Comunque il trucco per evitare sofferenze, comunque diminuire un po' le sofferenze di tagli di ritorno, è lasciare del legno molto lungo di rispetto. Vediamo un'altra pianta. Eccola qui, un'altra pianta sempre di moscato bianco del 2014, sempre nello stesso vigneto, anche in questo caso la testa è troppo alta, è all'altezza del filo e il caposfrutto è andato a finire attosso la pianta successiva. Allora io quest'estate ho allovato questo sperone di qua, che non posso lasciare come caposfrutto perché è veramente misero, ma lo lascio come sperone. Mentre di qua c'è un buon caposfrutto, che è questo qui, il più basso, rispetto allo sperone dell'anno scorso, quindi lascio questo come caposfrutto e questo qui come sperone. Quindi rispetto a quella là non vado a lasciare il caposfrutto qui, ma lo lascio come sperone e così il prossimo anno poi potrò ripartire di qua, andando a togliere tutta questa parte di qua. Quindi faccio lo sperone qui, dovrei contare una e due gemme, ma quella là è un po' rovinata, quindi faccio tre, è sempre diagonale, è un po' lungo ma quella là è rovinata, non so se parte, poi devo farlo già prima, ma libero la pianta dalla legatura, e vado a lasciare questo caposfrutto qui, all'incirca così, di lunghezza. Quello là era più bello, ma è più in alto, e non voglio vederlo più in alto, quindi vado a toglierlo, anche qui lasciando un po' di legno e di rispetto. Poi faccio il cosiddetto taglio del passato, andando non a tagliare qui, dove c'è il legno di tre anni, ma qui dove c'è il legno di due, come è stato fatto anche l'anno scorso qui. Questo adesso è secco, e magari posso anche eliminarlo, ecco qui, è una pianta così, è potata. Il prossimo anno se parte bene di qui, elimino tutta questa parte qui, la vite si è messa in altezza, secondo l'altezza corretta. Vediamone ancora uno. E questo è il terzo ed ultimo esempio che vi faccio vedere, sempre nelle vite di Moscato Bianco, sempre nello stesso vigneto, quindi sempre del 2014, per farvi vedere un esempio ancora più eclatante. L'anno scorso era decisamente più alta, ed era stata legata addirittura sul secondo filo. Queste vigne abbiamo tre fili, i principali sotto, e poi abbiamo le mollette in alto. In questo caso, per fortuna, l'anno scorso c'era uno sperone qui, a questa altezza, che è ancora alto. Però, intanto vado a prendermi come capofrutto questo. La pianta rimane senza speroni, ma qui ci sono delle gemme, sicuramente qualcosa faranno. Intanto libero la pianta dalla legatura, come sempre. Questo qui, che è il moncherino lasciato l'anno scorso, lo posso tranquillamente togliere, perché non mi è secco. e vado a prendere come capofrutto questo, tagliandolo qua, che lo lascia bello lungo, tanto lo spazio c'è, perché di fianco mancano vite, e poi vado a tagliare la parte che ha prodotto. Anche qui, anche qui, lasciando un ottimo legno di rispetto. Ecco qua. E la pianta è già potata. Bene, grazie per avermi seguito in questo video. Noi ci vediamo in un prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi e continuate a seguirmi.